Giancarlo Risso e Marco Barale tornano al Sanremo con questa bellissima Talboa Lotus dopo i numeri e i sorpassi dell'anno scorso che hanno fatto un po' storia No ma non credo che abbiano fatto storia, il momento portava così e l'abbiamo fatto Quindi torniamo di nuovo con tanta passione e tanta voglia, queste belle giornate di sole che aspettano questa gara con l'aspettativa di? L'aspettativa di divertirsi e di divertire, di fare i numeri dell'anno scorso e di mantenere la nostra attrazione Insomma innanzitutto il nostro in bocca al lupo e magari insomma di tornare su Youtube e entusiasmarci ancora magari con qualche passaggio di quelli che queste macchine tante volte hanno fatto su queste strade che sono poi la storia dell'automobilismo mondiale Mondiale, mondiale Quindi voi siete? C'erano altri piloti professionisti, noi siamo dei semplici amatori ma cerchiamo di fare del nostro meglio Però con tanto cuore sempre Senz'altro Allora in bocca al lupo a tutti e due che abbiate comunque il miglior risultato che possiate ottenere in questa gara Creppi il lupo e speriamo che la gara abbia un corso regolare durante tutta la sua durata e di arrivare in fondo soprattutto sabato sera Ve lo auguriamo, allora a sabato sera Arrivederci In bocca al lupo Grazie 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 Grazie